Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto svuotacarceri. Non sappiamo ancora i dettagli, ma qual è l'opinione e la posizione della Lega Nord su questo provvedimento del Governo Letta? Una posizione durissima. Siamo di fronte all'ennesimo vergognoso provvedimento del Governo. Il Ministro Cancellieri ha avuto il coraggio di definire questo provvedimento un non svuotacarceri. Questo è uno svuotacarceri in piena regola. L'ipocrisia del Governo non ha limiti e non ha confini. In questi giorni il Governo fa uno svuotacarceri, premia e dà benefici ai delinquenti e dall'altro lato controlla i conti correnti delle persone oneste. Siamo alla follia, all'assurdità più totale, per cui questo provvedimento non risolverà il problema del sovraffollamento delle carceri, ma offende e mortifica oltremodo le vittime dei reati. Crediamo che sia una vera e propria anticipazione di amnistia che a breve questo Governo presenterà. La Lega Nord invece propone delle altre alternative più concrete? Noi contestiamo duramente queste soluzioni emergenziali, occasionali, tampone, che non risolvono il problema del sovraffollamento. Non è con le amnistie, non è con gli indulti, non è liberando chi ha commesso i reati che si risolve il problema delle carceri. Lo si risolve in due modi, costruendo nuove carceri da un lato e dall'altro lato facendo scontare ai 23.000 detenuti stranieri che hanno già commesso un reato che dobbiamo pagare e mantenere nelle nostre carceri, lo si risolve appunto il problema dando la possibilità a questi 23.000 detenuti stranieri di scontare la pena nei paesi d'origine. Grazie. Grazie.